Il paesaggio della Sardegna, o meglio i paesaggi della Sardegna, costituiscono un patrimonio ambientale, storico e culturale di incredibile valore. Per salvaguardare, pianificare, gestire e adattare le esigenze attuali, occorrono competenze, sensibilità e motivazioni che interessano tutti i soggetti operati nel territorio regionale. Per questo, la Regione Autonoma della Sardegna ha dato avvio a una vera e propria strategia per la diffusione della cultura del paesaggio e dell'uso consapevole del territorio. Si tratta di un obiettivo importante, unitario, ampio e pervasivo e si articola in obiettivi specifici perseguiti con più azioni coordinate, tra le quali la Scuola del Paesaggio della Sardegna e il progetto Campus Sardegna. La creazione della Scuola del Paesaggio della Sardegna è mirata alla ricerca e alla diffusione di una più ampia cultura del paesaggio nella popolazione della Sardegna attraverso iniziative rivolti a cittadini, scuole, associazioni, professionisti e imprese. Il progetto Campus Sardegna, finanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020, è realizzato dal Formez, agenzia in house della Regione Sardegna, ed è incentrato sullo sviluppo delle competenze, delle figure tecniche che operano nelle pubbliche amministrazioni della Sardegna e tutelano, progettano, valutano e gestiscono il paesaggio. Rafforzare la cultura del paesaggio per i tecnici pubblici significa accrescere in modo diffuso la conoscenza del paesaggio e dell'uso responsabile del territorio, rafforzare il concetto di paesaggio nella sua accezione più completa, integrata e multidisciplinare, migliorare le competenze e il saper pratico nell'utilizzo di approcci, metodi e strumenti di analisi, pianificazione, valutazione e gestione integrata e sostenibile del territorio, valorizzare e rafforzare la capacità di governance e collaborazione delle diverse realtà territoriali che agiscono nel paesaggio. Il percorso coinvolgerà circa 600 partecipanti e si articolerà in 20 edizioni di 130 ore ciascuna, di cui 85 in presenza e 45 a distanza, suddivise in 5 sedi regionali, Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano e Olbia. Inoltre verranno realizzati 5 eventi open o think tank aperti ad un pubblico più ampio e dedicati a tematiche di rilievo riguardanti il paesaggio naturale o antropizzato e rivolti ad amministratori, esperti e stakeholder. Scienze della terra, storia e cultura, paesaggio naturale, rurale e urbano, normative e regolamenti, pianificazione paesaggistica governo del territorio, progettazione delle nel paesaggio, economia e politica del paesaggio, valutazione del paesaggio sono alcuni dei contenuti che verranno trattati da esperti nazionali e regionali. Progetto Campus Sardegna, un'opportunità per accrescere le competenze tecniche per tutelare, pianificare, progettare, valutare e gestire al meglio i paesaggi della Sardegna. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS